l'azienda comare ha finito di stare sempre su facebook sti qua delle minoranze gli fa star male, basta cerchi di essere un po' comprensivo siamo programmati per resistere lasci che facciano un pochino ma no dai, adesso qua volevo solo dire che i fuochi sono di calibro pesante e quindi andranno da un minimo di 80 metri a un massimo di 150 potrebbe ricadere qualcosa sulla chiesa di San Giacomo per caso? perché a chiesa? no, così? no, non arrivano, no bassi, non ci saranno fuochi bassi quindi la gente comodamente rimane sui marciapiedi lungomare sul marciapiede perché il lungomare è aperto al transito delle autovetture, dei veicoli e poi sul boulevard di Piazzale Italia quindi basta alzare gli occhi al cielo 150 metri si vedranno comodamente e tranquillamente e la spiaggia è interdetta quindi rimanete sul marciapiede mi permetto, l'ho detto prima qua sembra piaggeria verso gli operatori ma questa spiaggia è tenuta benissimo non c'è una carta, non c'è niente è tutto in ordine bisogna fare i complimenti a questi imprenditori che tengono gli stabilimenti in questo modo in pieno inverno praticamente è così distante anche dalle case distante dalle abitazioni quindi il fatto degli animali che qualcuno mi ha scritto ma i fuochi, gli animali? 150 metri d'altezza distante dalle case qui abbiamo gli alberghi insomma dai chiaro che non vivo con quattro cani e un gatto quindi penso che diciamo il discorso degli animali è solo un discorso che è giusto pensare ma insomma almeno una volta ragazzi voglio dire è giusto pensare gli animali ma voglio dire dai se no facciamo almeno l'ultimo dell'anno un po' di gansega c'è sempre qualcuno qualcuno che magari quando si fa qualcosa c'è sempre qualcuno che magari va bene però non puoi mai accontentare tutti però ho pensato proprio ai cani il fatto di farli da qui cioè sei veramente distante dalle case vanno in alto non ci sono problemi insomma dai Presidente Erminio Erminio allora questa sera? sì questa sera c'è una grande festa qui hanno chiamato in servizio noi hanno chiamato noi abbiamo risposto all'invito che ci ha fatto l'amministrazione e speriamo che sia una bella sera insomma il tempo è quello che è però ci stiamo mettendo tutta c'è un bel palco per ballare e noi chiuderemo come di consueto l'accesso al centro di sottomarina al boulevard di Piazza Italia lanciamo un appello lanciamo un invito alle persone di comportarsi bene di non bere che sia un divertimento sano ecco noi da parte nostra ce la mettiamo tutta cerchiamo la maniera di divertirci divertirci in maniera sana in maniera tranquilla colgo l'occasione per augurare a tutti quanti un buon termine una buona fine nel 2022 e un buon inizio del 2023 che sia soprattutto ricco e pieno di salute grazie mille grazie a te Amino grazie a te Amino grazie a te Amino grazie a te Amino